Massimo Viglietonci, presidente dei senatori della Lega Nord, a Palazzo Madama ha approvato una risoluzione del Carroccio. Che cosa prevede? Una risoluzione che parla di Europa. C'è stato l'intervento del presidente eletta in aula. Noi abbiamo evidenziato sia nella risoluzione che nell'intervento che noi siamo per un'Europa dei popoli, un'Europa democratica, non certamente l'Europa del fiscal compact, dei banchieri. Noi vogliamo un'Europa dove ci sia un referendum quando si fanno delle scelte importanti. Infatti questa è la cosa importante che è stata approvata per la prima volta all'interno della risoluzione. E' un passaggio dove noi chiediamo un sistema democratico referendario che indica un'applicazione della democrazia a quello che è il sistema europeo. Nel frattempo continua il maltempo in Veneto. Massimo Viglietonci che cosa chiede al governo? Abbiamo presentato un'interrogazione questa mattina, poi un intervento in aula per sottolineare la gravità della situazione in Veneto, Lombardia e Piemonte. Abbiamo calcolato che anche con questa alluvione ci sono stati circa un miliardo di euro di danneggiamenti all'agricoltura, al turismo. Chiediamo un intervento del governo che quindi intervenga su queste calamità naturali stanziando dei fondi ma soprattutto che dia una mano ai comuni e alle province e alle regioni esentando dal patto di stabilità a tutti gli interventi le spese che vengono sostenute in questi casi.